Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi video haul e vabbè lo divido in due, faccio quello mio e quello proprio per Ginevra. Saluta mamma, saluta, saluta con la mano, tutta malaticcia lei sempre, tutta malaticcia. Vabbè, no, mamma si firma. Allora vi faccio vedere, sono andata da Calzedonia e da Tezenis. Allora partiamo da Calzedonia, c'era l'offerta quindi ve lo faccio, ve lo carico subito così se vi interessa potete andare. C'era l'offerta 10 calzini, 1 euro l'uno venivano. Quindi 10 calzini, 10 euro e 3, 5 euro, ora non ricordo bene. Comunque ho comprato, allora vi faccio vedere solo uno in special edition che ho pagato, aspettate, devo vedere. Solo uno special edition, non rientrava nella promozione. Un attimo. Le ho pagate al 50% se non sbaglio, costava 5,95 e l'ho pagato 2 e qualcosa. No, no, quanto costava? 8,95 e l'ho pagato la metà, 4 e qualcosa. Comunque è fatto in questo modo. A questa applicazione, Ginevra aspetta un attimo per a Momo. E sui toni del blu e del grigio e a questa stella il rilevo con tutte queste applicazioni. Ed è molto molto bello. Ce ne erano altri special edition, no vabbè questo non l'avrei mai comprato, 8,95. Comunque dicevo, perché è entrato mio marito, allora 8,95 non li avrei mai comprati, già la metà 4,40 euro o qualcosa, vabbè, però mi piaceva e l'ho voluto prendere. Sapete la mia maglia dei calzini, ho fatto anche il video sulla collezione dei calzini, quindi potete capire. Poi ho comprato questo, ho fatto in questo modo, a righe, blu, grigio e rosso. Questi rientrano nella promozione 10 euro. Poi ho comprato questo con biancaneve. Biancaneve. E poi sono tutte taglie uniche. Sono tutte taglie uniche. Questi costavano 5,95, 5,95, 3,95, dipende. Poi ho preso questi sui toni della rosa, ho fatto in questo modo. Poi questo qui nero, io volevo quelle col fiocchetto dietro, disegnato, stampato, ma non c'erano, non finiti. E questo invece è fatto in questo modo, non so se riesco a farvi vedere, comunque è tipo trasparente, quindi è molto carino. Nero con il bordino grigio. Poi ho preso questo con Minnie, la collezione Disney. Disney Calzedone, questo costava anche lui 3,95, abbia sempre pagato un euro. Quindi è molto molto carino. Poi ho preso questa, quella strega. Guardate che carini. Molto molto carini. Poi ne ho preso un altro con Minnie, la mia mania di Minnie. Quindi, vedete, è fatto in questo modo. Ho preso un altro paio nero con il fiocchetto blu, blu però tutto lurex. Molto molto carini. E poi ne ho preso un altro che è tipo rosso, ma non è proprio rosso, tipo rosso fragola, diciamo. E con queste stelle. Molto molto carino. E queste sono le cose che ho preso per me da Calzedonia. Poi ho preso pure a Ginevra, però vi faccio vedere, vi faccio il video a parte. Invece da Tezze. Questo ve l'ho fatto vedere. Ah no, ho preso anche questo, non mi ricordo. Forse non ve l'ho fatto vedere. Comunque si tolni del rosa, grigio e tortora. Molto molto belli. Ma poi un euro è molto buono il prezzo. È conveniente. Date Zenith, vabbè. Ho preso delle mutande che stavano tre, venivano 12,90 euro. Tre per 12,90 euro. Ho delle semplici mutande nere fatte con il ricamo laterale. Le ho prese tipo culotte, diciamo, a vita alta. Perché comunque per il lavoro sono più comode. Io ho preso queste qui, nere, tre nere. Poi ho preso, vediamo se trovo lo scontrino. Ok. Poi ho preso, allora, ho preso questa maglia. Fatta in questo modo. Fatta in questo modo, con un pochino di collo. Aivola, scende. E poi ha la manica fatta a sbuffo. Questa costava 25,90 euro. È una taglia L perché veste abbastanza grande, quindi mi va. E l'ho pagata 8 euro, quindi al 69%. Quindi per 8 euro mi sembra molto molto carina. E poi è anche bella, bella lunga. Magari perché è magra, puoi metterla anche con un leggings sotto. Poi ho preso un altro maioncino. Avevo molti maioncini neri perché comunque a me il nero piace. Questa da 25,90 euro. E ora non mi ricordo questo. Vediamo il codice, se riesco a vedere. No, non si vede il codice. Vabbè, comunque ho 12,95 euro. Forse 12,95 euro, la metà. È fatta in questo modo. Semplice nera. Sempre bella lunga. Però ha le ruche sulle maniche. Non so se si riesce a vedere perché c'è il sole illuminata di immenso. È fatta in questo modo. È sotto il polsino. Ed è anche bella lunga. E sotto finisce in questo modo, con questo, diciamo, risvoltino. Non si riesce a vedere. Insomma. Quindi anche questa costava 25,90. Pagata a 12,95 la metà. Una semplice magliettina nera. Poi, Ginevra, che stai facendo a mamma? Scusate. Poi, un'altra magliettina che ho preso. Questa costava 25,90. E anche questa pagata poco, 12,95, se non sbaglio, 8 euro. Non mi ricordo bene. Perché non c'è. È fatta in questo modo. Molto, molto carina. Allora, questa particolarità. È sempre nera, tutta, diciamo, traforata. Fatta in questo modo. Però qui, a questo, è il shocker che va al collo. Quindi viene fatta in questo modo. Questo. E quindi viene con lo scollo a V. E questo alla gola. Quindi, secondo me, è molto, molto carina. Molto, molto carina. E costava 25,90. Già ve l'ho detto. Sì, vero? Sono diventata logorroica. Sempre nera, però c'è questa particolarità. Poi, un'altra maglia nera. Ragazzi, ho preso tutte le maglie nere. Vabbè. Tutte le maglie nere, magari. Forse qualcuno la vado a cambiare. Però erano carine. Questa sempre L, perché vestono proprio belle grandi. Questa la devo fare aggiustare da mia mamma. C'è un filo tolto. Allora, è fatta in questo modo. Ha queste ruche fatte così. Sì, al collo. Mamma, c'è io. Sì, vuoi aprire? Sì. Scusate l'interruzione. Fatta in questo modo. Vediamo se riesco a farvela vedere. Bella, bella, lunga. Giù è fatta sempre con i volant. Che richiama anche sulla manica. Quindi è molto, molto carina. Vedete? Si riesce a vedere la maia. La trama. Quindi era graziosa. Sì, sono tutte nere, però comunque le trame sono diverse. È sempre pagata la metà a 12,95. E poi ho preso, diciamo, un cardigan. Fatta in questo modo. Avanti, lavorato. Aspetta, mamma, mettiti un attimo qua. Copri il sole. Fatta in questo modo. Con le maniche è sempre lo stesso richiamo. E dietro, invece, è semplice. Oh, mamma. Questa è sempre la metà. Sempre una L. Perché comunque, vi ripeto, sono proprio belli grandi. Basta. E basta. Questi sono gli acquisti che ho fatto da Tezenis. Sono andata anche da Zara che ho comprato delle cose a Ginevra. E ho visto dei caputino molto, molto carino sul rosa. C'è la rosa e il blu. Però è nuova collezione. Costava 69,90 se non sbaglio. Sono indecisa se prenderlo o no. Veramente sono indecisa sul colore. E quindi non l'ho preso perché ci sto pensando. Tanto sicuramente lo ritrovo perché è nuova collezione. C'erano alcune cose in saldo che mi piacevano. Ma con Ginevra non era possibile. Perché siamo andati nell'attesa del pediatra. E mentre aspettavamo il pediatra, siccome la fila era molto lunga, la segretaria ci aveva segnato. Ha detto, vabbè, andate e poi ritornate. E quindi abbiamo fatto tutto di fretta. Quindi, niente. I questi sono tutti i miei acquisti. Fatemi sapere. Spero di riuscire a fare un altro salto per negozi in questi giorni con tranquillità e non con la fretta. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!